Ecco, ce l'avete tirato fuori, anche due o tre persone, lo so che sono i manager, ce l'ho pure il palmano, tiratelo fuori. Ecco, adesso manca solo una cosa, rimanete così, manca solo, per fare l'effetto rock, che voi bruciaste il mio nome, bruciastico. Allora, bri-gnano, 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 bri-gnano. E così, voi fate un piacere a me e ve li contate bene i domani chiami. Ecco, benvenissima, grazie, grazie a te.